Una buona giornata a tutti quelli che ascolteranno questo video messaggio. Oggi è venerdì 26 giugno, sono nella mia pausa pranzo e prima di fermarmi a mangiare un boccone volevo parteciparvi a una riflessione sulla quale sto meditando da qualche giorno. E' un argomento che ho già trattato qualche anno fa nella comunità della quale sono membro e negli ultimi tempi è un argomento che il Signore ha un po' arricchito con alcune riflessioni che voglio parteciparvi. Negli ultimi tempi abbiamo potuto vedere durante il periodo di quarantena con l'epidemia, la pandemia abbiamo potuto tutti quanti notare una cosa, sicuramente abbiamo notato una cosa tutti quanti. Una delle parole più citate durante questo periodo critico è stata la parola risveglio. Molte volte abbiamo letto sui social che Dio attraverso questa prova, questa difficoltà che tutti quanti ci auguravamo un risveglio nelle chiese, un risveglio del cristianesimo. Quindi diciamo che la parola risveglio è quella che è stata quella più frequentemente pronunciata. Sicuramente parlare di risveglio è una cosa bella perché dimostra un certo zelo nelle cose del Signore, un attaccamento alle cose di Dio, ecco. Però vedete, purtroppo a volte il risveglio viene interpretato anche questo in modo sbagliato. A volte qualcuno interpreta il risveglio come magari andare a urlare per le strade con i megafoni. Per l'amor di Dio non voglio criticare chi fa questo. Però il risveglio vero non è quello di andare in giro a urlare. Il risveglio vero non è neanche quello di sventolare i bandiere. Il risveglio non è neanche quello di trasformare i cori delle chiese da cori di adorazione in cori da rock band. Cioè cambiare la musica, mettere una musica più assordante non significa un risveglio spirituale. Il risveglio spirituale non consiste neanche nel trasformare le chiese in discoteche con luci particolari, con lampeggianti, quindi da dare quelle atmosfere un po' più vivaci, ecco. Quello non è il vero risveglio. Il vero risveglio non consiste in tutte queste cose. Grazie a Dio in questo periodo di quarantena, grazie a Dio, ci sono state anche delle iniziative molto belle, come quelle di predicare il Vangelo dai balconi. È stato qualcosa di molto bello. Predicare il Vangelo ai propri vicini. Ecco, queste sono state delle iniziative sicuramente che hanno glorificato il Signore. Ma quando parliamo di risveglio non dobbiamo confonderlo con aumentare un pochino la manopola del volume della musica. Non dobbiamo neanche confonderlo, come dicevo prima, con urlare per le strade. Il vero risveglio non consiste in tutto questo. Il vero risveglio è qualcosa che deve partire dal cuore del credente. E non si può parlare di risveglio se non c'è più un primo amore, il primo amore nel cuore del credente. Quindi l'argomento di oggi, che volevo parteciparvi oggi, è appunto proprio il primo amore. E' di questo che voglio parlare, perché senza il primo amore non si può parlare di un vero risveglio. Tutte le nostre iniziative religiose non producono nessun frutto, se dentro di noi continua ad ardere quella fiamma del primo amore. Si è parlato anche in questo periodo di tanti buoni propositi, quando ci sono i momenti difficili, si pensa alla ripartenza, a quando finirà la quarantena, quando usciremo da questa quarantena, faremo questo, faremo quello. Sicuramente ogni sincero credente è animato da questi buoni propositi. E sono tutti buoni propositi, vedete, che per quanto possano essere buoni, non diventeranno realtà se Cristo non è il protagonista della nostra vita. Cioè, quando noi esprimiamo il desiderio di voler essere più buoni, di migliorare, quando esprimiamo il desiderio di crescere, quando esprimiamo il desiderio di non commettere più gli stessi errori, quando diciamo non farò più questo, non farò più quello, e quando diciamo ancora voglio fare meglio, voglio essere migliore. Ecco, questo desiderio è sicuramente gradito al Signore, perché esprime un po' il desiderio del salmista nel Salmo 119, dai versetti 33 a 40. Se ve lo andate a leggere, i versetti da 33 a 40 del Salmo 119 esprimono proprio il desiderio di questo cuore che vuole onorare Dio. Quindi, vedere appunto dei curi che desiderano onorare Dio è sicuramente una bella cosa, però vedete, se siamo onesti dobbiamo riconoscere una cosa, che noi spesso, pur essendo animati da questi buoni propositi, poi ci rendiamo conto che purtroppo continuiamo a sperimentare il fallimento dei nostri buoni propositi. Tutto questo desiderio sano spesso non diventa concreto nella nostra vita e dobbiamo ammettere che purtroppo facciamo i conti con il nostro fallimento. Questi fallimenti nella nostra vita, sapete perché accadono? Accadono perché quando diciamo di non volere fare questo e non volere far quello, ci basiamo a volte più sulle nostre forze che sulle forze di Dio. Quindi è come se dicessimo, ecco, io non voglio fare più questo, io non voglio fare più quello. Vedete, c'è sempre questo io in mezzo che un po' vuole essere il protagonista della nostra vita e quindi quando noi costruiamo i nostri buoni propositi sulle nostre capacità, dopo purtroppo ci accorgiamo che abbiamo fallito, perché se contiamo sulle nostre capacità non riusciremo mai a mettere in pratica quello che il Signore ci comanda e sulle capacità che il Signore ci mette a disposizione e sulle capacità della vita di Cristo che dobbiamo contare. Quindi se Gesù non è il protagonista della nostra vita, tutti i nostri buoni propositi, tutte le nostre buone intenzioni, tutto quello che di buono ci siamo prefissati, ecco, se non è Gesù a compierlo nella nostra vita come protagonista assoluto, noi ci troveremo sempre a sperimentare dei fallimenti. Quindi il vero risveglio, se proprio vogliamo parlare di risveglio, deve partire dal nostro cuore. Dobbiamo farci tutti quanti una domanda seria. Abbiamo conservato il primo amore? Arde ancora nel nostro cuore la fiamma, quello zelo che bruciava nei primi tempi della conversione? Ecco, facciamoci questa domanda e poi parliamo di risveglio. Perché altrimenti sono solo quei risvegli religiosi che non portano nessuna gloria a Dio. Anzi, più delle volte si fanno dei danni perché, come vi dicevo prima, molti cori di adorazione si sono trasformati in rock band perché pensano che con una musica più assordante pensano di creare un risveglio con una musica alto volume. Le chiese stesse non sono più dei luoghi di adorazione composti, ci sono luce e psichedeliche, non so se si pronunce così, che creano quelle atmosfere da svegliare il credente. Ma di che cosa stiamo parlando? Se si intende quello come risveglio, siamo messi veramente male. Il vero risveglio è farci un esame davanti a Dio e dire bene, ho conservato la fiamma del primo amore nel mio cuore, ho perso il mio primo amore, l'ho abbandonato il mio primo amore, o il mio primo amore arde ancora nel mio cuore come un tempo? Queste sono le domande seri che ci dobbiamo fare, altro che sventolare i bandiere, urlare per le strade. Vedete, il primo destinatario di questa riflessione, di questo messaggio sono io, voglio dirlo proprio con schiettezza, perché il primo ad esaminarsi davanti a questo argomento devo essere io. Poi prego il Signore che possa portare anche nella vostra vita un motivo di riflessione e di esaminarvi davanti alla scrittura, davanti a Dio, per vedere se avete conservato il primo amore. Perché, ripeto, è da lì che parte il vero risveglio. Io adesso vi proietto una foto, vi faccio vedere una foto che in questo momento vedrete scorrere su display. Ecco, questa è la foto numero uno, dove voi potete leggere queste parole. tenere, conoscenza, opere, fatica, costanza, sopportazione, instancabile e buona dottrina. Bene, adesso, dopo aver visto questa foto, andiamo a leggere nel libro dell'Apocalisse, il capitolo 2, i versetti 1, 2 e 3. Prendete Apocalisse, capitolo 2, i versetti 1, 2 e 3. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi Queste cose, dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono e che ne hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per l'amore del mio nome e non ti sei stancato. Bene, noi qui vediamo che le parole che vi ho fatto leggere sulla foto sono quelle che abbiamo letto adesso nei versetti 1, 2 e 3. Nei versetti 1, 2 e 3 appunto abbiamo letto tutte quelle parole che io ho elencato su quel foglio. Ora facciamoci una domanda, vorrei essere molto sintetico per completarlo magari nella mezz'ora questo argomento. Noi nei versetti che abbiamo letto vediamo che ci sono contenute tutte le parole che io ho segnato su quel foglio. Noi sappiamo che qui il mittente di questa lettera è Gesù in persona e egli si presenta come colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai candelabri d'oro, cioè egli si presenta come il Signore della Chiesa. Il destinatario è la Chiesa di Efeso, è l'anziano della Chiesa di Efeso e della tutta la comunità, ma possiamo farlo nostro questo messaggio. Diciamo che stamattina i destinatari di questo messaggio siamo noi. Ecco, Gesù si presenta come colui che è il Signore della Chiesa. Egli dice proprio che cammina in mezzo, che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri. Qui si sta presentando proprio come il sovrano, il capo supremo della Chiesa. Egli dice che è colui che tiene, egli tiene le sette chiese, egli dice che tiene le sette chiese nella sua destra. Il significato della parola tenere può anche essere trattenere, afferrare, reggere, conservare, prendere, possedere. In sintesi, egli si sta presentando come il capo supremo della Chiesa. Egli è il capo della Chiesa, ma questo lo so, lo sappiamo già tutti. Vedete, egli si presenta alla Chiesa dicendo io conosco le tue opere. Egli ha conoscenza profonda di questa Chiesa. Egli stamattina, se vogliamo fare nostro oggi questo messaggio, egli è come se ci dicesse io conosco ogni cosa di te Mario, io conosco ogni cosa della tua vita. E il Signore qui fa degli elogi a questa Chiesa, no? Dice io conosco le tue opere, conosco la tua fatica, la tua costanza, la tua sopportazione, conosco la tua buona dottrina. Egli fa l'elenco di tutte le cose che conosce di questa Chiesa. Quindi immaginiamo che oggi le sta dicendo a noi queste cose. Mario, io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, la tua sopportazione, la tua buona dottrina. Io conosco tutto di te. E tutte queste note di apprezzamento che il Signore fa, notate che questa Chiesa qui era una Chiesa che viveva in tempi abbastanza difficili. Quindi una Chiesa che aveva costanza, che faticava proprio per il Signore. era una Chiesa sicuramente modello e abbondava in opere questa Chiesa. Quindi possiamo dire che era una Chiesa modello. All'apparenza era la Chiesa da imitare, diciamo. Era una Chiesa che dice così che non si era stancata e non stancarsi a quei tempi lì era molto difficile, perché c'erano persecuzioni, non era facile essere costanti in quel periodo. Quindi noi vediamo tutte queste belle note di apprezzamento che il Signore fa alla Chiesa di Efeso. E stamattina, oggi, immaginiamo che il Signore ci stia facendo queste note di apprezzamento anche a noi. Io conosco, Mario, la tua fatica, le tue costanze, le tue lacrime, la tua pazienza, la tua sopportazione. So che hai una buona dottrina. Io conosco tutto di te, Mario. Conosco tutto di te, sta dicendo anche a te. Ecco, questa Chiesa possiamo dire che era una Chiesa esemplare. Adesso io vi faccio vedere una seconda foto che vedrete scorrere tra un attimo sul display. Ecco la foto. Ecco, questa è la stessa foto di prima, della foto 1, dove io ho aggiunto una parola. Contro. E tenendo gli occhi su questa foto, un occhio su questa foto, prendiamo la Bibbia, prendiamo sempre in Apocalisse, al capitolo 2, e andiamo a leggere i versetti 4 e 5. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e compie le opere di prima. Altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Bene. Come abbiamo potuto leggere, il Signore dice, è il versetto 4, ma io ho questo contro di te. Vedete, qui è sempre Gesù che parla e si sta rivolgendo alla stessa chiesa che poteva essere la chiesa modello che abbiamo detto prima. Quella chiesa all'apparenza era una chiesa modello, ma Dio che guarda al cuore, Gesù che guarda nelle profondità del nostro cuore, egli non si limita a giudicarci dall'apparenza, dalle nostre opere, dalla nostra fatica, costanza, dalla nostra sopportazione, eccetera. Egli guarda al cuore e guardando al cuore di quella chiesa dovete dire, io ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. E notate che quando Gesù dice ho questo contro di te, quel contro a zera e a nulla tutte le buone opere. Quella, io ho questo contro di te, non lo sta dicendo uno qualsiasi, è Gesù che sta parlando. E quindi se noi ci vogliamo immedesimare in quella chiesa che compiva tante belle e buone opere, stamattina, oggi, esaminiamoci noi stessi. Cioè, Gesù sta dicendo, io apprezzo tutto quello, io vedo che tu hai tante belle cose nella tua vita cristiana, ma c'è qualcosa che non va bene, che io ho contrario, che io sono contro, che tu hai abbandonato il tuo primo amore e quel contro cancella completamente tutto quello che di buono faceva quella chiesa. Perché Gesù guarda al cuore, non all'apparenza, non alle opere religiose e guardando al cuore di quella chiesa, dovete appunto dire, io ho questo contro di te, che tu hai abbandonato il tuo primo amore. Vedete che questa frase è pesante, egli praticamente sta facendo un rimprovero pesante alla chiesa di Efeso. Sì, tu sopporti, hai una buona dottrina, tu puoi avere una buona dottrina, puoi sopportare i malvagi, puoi pregare per i tuoi nemici, puoi avere costanza, pazienza, sopportazione. A Gesù non gli importa nulla se è abbandonato il primo amore e dopo vedremo chi è il primo amore, anzi ve lo anticipo subito, è lui, è lui stesso il primo amore. Cioè la chiesa di Efeso era diventata una chiesa religiosa, una chiesa che si era formalizzata alle opere religiose. Gesù non era più il protagonista della chiesa di Efeso e quando noi abbandoniamo il primo amore significa questo, Gesù non è più il protagonista della mia vita e allora se egli non è il protagonista della mia vita tutte le mie buone opere non servono a nulla. L'ho detto mille volte, lo ripeto, se non è in lui a compiere le opere in noi, le opere che compiamo non servono a nulla, sono opere religiose. E la chiesa di Efeso si era purtroppo trasformata in una chiesa che era diventata religiosa. Ecco perché Gesù dovette rimproverarla in modo deciso. Guarda che io ho questo contro di te, che tu mi hai abbandonato. Non sono più io che vivo nel tuo cuore. E allora quando non è lui a vivere nel nostro cuore tutto quello che facciamo è tutto inutile agli occhi di Dio. Gesù non era più il protagonista di quella chiesa. Vedete però Gesù è sempre... Quella chiesa aveva perso il fervore, aveva perso l'ardore, tutto quel fervore iniziale e la chiesa di Efeso era stata istruita da Paolo in persona. Vedete che grande benedizione aveva avuto Paolo come conduttore, come istruttore, come maestro, come insegnante. Loro avevano abbandonato il primo amore. Si erano trasformati in freddi religiosi. La vita cristiana era diventata un'abitudine. Ma guardiamo nel nostro cuore in questo momento. Guardiamo dentro di noi. Abbiamo ancora il fervore, l'ardore, lo zelo che ardeva e bruciava dentro di noi i primi tempi. Siamo onesti davanti a Dio. E se non è così dobbiamo confessarlo. Signore, ti ho abbandonato. Ho abbandonato il primo amore. Sono diventato un religioso. Sono diventato uno che... Un cristiano abitudinale. Signore, rendimi di nuovo lo zelo dei primi tempi. Fa che la fiamma del tuo zelo possa bruciare nel mio cuore con ardore, con fervore. Perché soltanto se Egli è il protagonista della nostra vita, allora tutte quelle belle opere saranno opere che glorificheranno Dio. Altrimenti, ripeto, sono solamente opere religiose. E come avete potuto vedere dalla foto, non ho cancellato la parola tenere e conoscenza, perché quella parola contro annulla tutte le buone opere. Ma non annulla il tenere e la conoscenza, perché comunque Gesù rimane sempre il Signore e capo della sua Chiesa. Qualcuno che sta ascoltando questo messaggio potrebbe dire no, io non ho abbandonato il primo amore. Beh, sono contento per te, però facciamoci, non fatti, facciamoci tutti un esame serio davanti a Dio. Perché vedete, non ci può essere risveglio se non c'è il primo amore vivo nel nostro cuore. Noi a che cosa potremmo paragonare il primo amore? All'ardore, allo zelo dei primi tempi, alla passione che avevamo per la Chiesa, per la comunione fraterna, a volte anche dopo dieci ore di lavoro, non mancavamo mai alle riunioni di culto. Adesso basta una scusa banale per non andare alle riunioni di culto, alle riunioni di preghiera. Il primo amore possiamo paragonarlo alla fame e la sete che avevamo di Lui. Divoravamo versetti biblici al giorno in quantità esagerate. Oggi passano giornate intere senza aprire mai la Bibbia. Ecco, il primo amore è il desiderio di stare in compagnia con Lui, di cercare la comunione con Lui. Ogni momento era buono per pregare, per testimoniare. Non ci facevamo scappare occasioni per parlare di Gesù a qualcuno. Ecco, queste sono tutte caratteristiche del primo amore e significa che Egli era il protagonista della nostra vita quando facevamo queste cose. Adesso il rischio di diventare... Il primo amore era anche, scusate, quando cadevamo nel peccato. Quando il primo amore ardeva nel nostro cuore e cadevamo nel peccato, non vedevamo l'ora di confessarlo perché quel peccato ci creava disagio. Adesso ci crea disagio il peccato quando cadiamo. O ci siamo abituati anche alle cadute del peccato. Questo, vedete, è un esame serio che bisogna fare perché abbandonare il primo amore significa che Cristo non è più il protagonista della mia vita. E se Egli non è il protagonista della mia vita significa che io sono diventato un cristiano religioso che si è abituato talmente tanto alla vita cristiana che non ne sente più le gioie, le emozioni. Il primo amore, anche, sapete, quando pensando alla grazia di Dio ci emozionavamo. Signore, grazie che mi hai perdonato i peccati. Che bellissimo dono mi hai fatto. Oggi il perdono dei peccati ci emoziona più. Non ci emoziona più. Se non ci crea nessun effetto di gratitudine verso Dio allora vuol dire che noi abbiamo abbandonato il primo amore. Se invece avete conservato tutte queste cose nel vostro cuore allora non lo avete abbandonato il primo amore ma se l'abbiamo abbandonato vedete, con Dio è sempre meraviglioso perché il Signore non condanna questa chiesa. C'è la rimprovera aspramente come sta facendo con me stamattina oggi e di oggi mi sta rimproverando in modo deciso però vedete egli è meraviglioso perché ci mette sempre davanti una speranza una soluzione con Dio c'è sempre una soluzione questo è bello. e lì infatti la soluzione la troviamo nel versetto 5 adesso vi proietto un'altra foto e mi avvio la conclusione e vediamo prima di proiettare la foto però facciamoci una domanda ci riconosciamo nella chiesa di Efeso come credenti sia nelle cose positive che in quella negativa ci riconosciamo come dei credenti costanti pazienzi che sopportano che fanno buone opere che hanno una buona dottrina bene ci siamo sentiti ripresi nel nostro cuore dalle parole di Gesù quando dice alla chiesa io ho questo contro di te cioè ci riconosciamo mancanti anche in questo riconosciamo di aver abbandonato il primo amore bene non ti disperare non ti strappare i capelli e non andare in depressione spirituale perché con Gesù c'è sempre una speranza e la leggiamo al versetto 5 guardate questa foto bene il versetto 5 dice lo voglio leggere dalla scrittura sono abituato a leggere dalla scrittura perché non voglio tralasciare neanche una virgola ricorda dunque da dove sei caduto e ravvediti e compi le opere di prima mi fermo qua l'altra parte altrimenti vengo da te richiederebbe un altro studio ma voglio fermarmi su questo argomento qui per adesso ricorda dunque da dove sei caduto ravvediti e compi le opere di prima bene come potete vedere nella foto il Signore dice una cosa meravigliosa dice ricorda dunque da dove sei caduto vedete e poi dice e compi le opere di prima egli ci sta qui invitando a ravvedimento con Gesù c'è sempre una speranza egli ci rimprovera oggi ci sta dicendo che abbiamo abbandonato il primo amore ma ci dà una speranza dice bene adesso ricordati ricordati che cosa notate che non dice ricorda dove sei caduto ma dice ricorda guardate la foto ricorda da dove sei caduto il da sta proprio a significare ricorda da che posizione sei caduto ricordati a che posizione eri quando io vivevo nella tua vita ricordati da dove sei caduto cioè da quale posizione da quale livello non dove ma da dove significa ricordati ricordati che quando io ero il protagonista della tua vita il tuo livello spirituale era più alto quindi è da là che sei caduto da quella posizione di spiritualità che sei caduto e ricordati quindi come eri chi eri prima ricorda da dove sei caduto e ravvediti ecco vedete che bellissimo messaggio di speranza egli non dice ricordati dove sei caduto egli dice ricordati da dove sei caduto e adesso chiediamoci sinceramente siamo ancora in quella posizione siamo in quella posizione di spiritualità o siamo caduti da quella posizione se siamo caduti da quella posizione allora oggi è il giorno giusto per ravvederci e compiere le opere di prima quali erano le opere di prima Gesù lì sta dicendo ravvediti ravvediti e compi le opere di prima le opere di quando io ero il protagonista della tua vita compi quelle opere lì perché le compivo io per te egli gradisce le opere di prima perché in quelle opere di prima era lui l'autore era lui il protagonista perciò dice compi le opere di prima torna dove eri prima come posizione ravvediti torna al primo amore e compi le opere di quando il primo amore viveva nel tuo cuore perché quelle opere lì le compiva lui e sono le opere uniche che egli gradisce ci sarebbero tante altre cose da dire forse farò una seconda parte perché c'era un accenno anche alla pigrizia ma è un argomento talmente eventualmente lo faremo un'altra volta voglio solamente concludere con questo spero di aver portato ringrazio il Signore innanzitutto per come mi ha mi ha mi ha parlato a me oggi mi ha parlato a me io sono veramente sono veramente commosso perché mi vedo mancante in questo ma vedo anche che egli mi dà un'opportunità una speranza mi dà mi dà nuove speranze oggi dici guarda Mario non ti preoccupare Mario io conosco tutto di te guardando attentamente nel tuo cuore ti devo rimproverare che hai abbandonato il primo amore ma non ti preoccupare ravvediti ritorna a quella posizione e tutto tornerà come prima torniamo a quella posizione lasciamo che sia lui il protagonista della nostra vita voglio dirvi una cosa poi dopo vi lascio eventualmente come il Signore mi metterà nel cuore farò un'altra parte di questo argomento però adesso voglio lasciarvi con queste parole vi faccio una domanda rispondetemi sinceramente se io oggi vi chiedessi a ciascuno di voi che state ascoltando questo video conosci oggi il Signore più di quanto lo conoscevi anni fa la tua conoscenza del Signore di oggi è maggiore a come lo conoscevi due, tre, quattro cinque anni fa dieci, vent'anni fa sono sicuro che la vostra risposta è sì sicuramente starete dicendo sì oggi conosco il Signore più di come lo conoscevo anni fa bene allora io vi faccio una domanda se oggi conosciamo il Signore di più e se il Signore è amabile perché lo amiamo di meno se lo conosciamo di più se oggi la nostra conoscenza di Lui è maggiore maggiore dovrebbe essere anche il nostro amore perché Egli è amabile e più lo si conosce più lo si ama vi lascio con queste parole non di condanna ma che possano portarvi portarci a un giusto ravvedimento e ritornare là da dove siamo caduti nel libro del profeta Geremia al capitolo 2 i versetti da 2 a 5 il Signore dice va e grida 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 alle orecchie di Gerusalemme diciamo che il Signore oggi grida alle nostre orecchie così dice il Signore io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane del tuo amore di fidanzata quando mi seguivi nel deserto in una terra non seminata Israele metti il tuo nome a posto di Israele Israele era consacrato al Signore Egli era la primizia della sua rendita tutti quelli che lo divoravano si rendevano colpevoli e la calamità piombava su di loro dice il Signore ascoltate la parola del Signore o casa di Giacobbe e voi tutte le famiglie della casa di Israele ascoltate bene il versetto 5 così parla il Signore quale iniquità hanno trovato i vostri padri in me che si sono allontanati da me e sono andati dietro alla vanità e sono diventati essi stessi vanità il Signore sta dicendo qui quale peccato abbiamo visto in Lui da giustificare il nostro allontanamento da Lui Egli si ricorda del nostro amore di quando eravamo come una fidanzata lo seguivamo nel deserto dappertutto che cosa ci è successo? Siamo diventati dei religiosi freddi sterili ed è tempo di tornare al primo amore ed è tempo di tornare a questo amore a questo amore che dice qua il Signore dice io me lo ricordo quel tuo primo amore dove è andato a finire il Signore ci sta dicendo oggi in che cosa vi ho deluso dove ho mancato davanti a voi perché mi avete abbandonato perciò vi dico se Egli è se lo conosciamo di più dovremmo amarlo di più perché Egli è amabile Egli qui ci sta dicendo ditemi ditemi dove ho sbagliato quale peccato avete trovato in me dice il Signore perché vi siete allontanati da me dov'è che vi ho deluso in che cosa ho sbagliato nei vostri confronti dice il Signore il Signore ha sbagliato ha fatto qualcosa da meritare il nostro allontanamento da Lui no siamo noi il nostro cuore che si è allontanato da Lui e il nostro cuore che non brucia più come ardeva la fiamma del primo amore un tempo e allora questa mattina ritorniamo all'amore di fidanzati ritorniamo a quel primo amore chiediamogli proprio Signore Signore fa che la fiamma l'ardore del primo amore possa ardere forte nel mio cuore vivi tu nella mia vita Gesù annienta ogni parte di me della mia carne della mia umanità della mia carnalità distruggi ogni opera religiosa nella mia vita vivi tu nella mia vita e solamente così potrò compiere le opere di prima che sono le uniche opere che Dio gradisce che il Signore ci benedica spero di avervi trasmesso un pensiero è il Signore che ci ha rimproverato non sono stato io quindi spero di avervi trasmesso un messaggio di speranza perché in effetti anche questo è un messaggio di speranza il Signore il Signore oggi ci ha rimproverato bene prendiamoci l'improvero perché ce lo meritiamo tutti ma sappiamo che ci dà una speranza e gli dice ravvedetevi da dove sei caduta ricordati ricordiamoci da dove siamo caduti e ravvediamoci ritornando là dove eravamo un tempo che il Signore ci benedica e che questa parola possa portare frutto per la sua gloria e che possa creare il vero risveglio il vero e unico risveglio che Dio gradisce quello di ritornare al primo amore che Dio ci benedica